Musica Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Hasbrald Siamo qui con un nuovo episodio di Forza Horizon 3, esattamente e precisamente il ventunesimo episodio Siamo ancora qui nell'outback con la nostra Ariel Nomad, che tanto amiamo, non è vero, così inguidabile E oggi andiamo a farci il resto delle gare, delle acrobazie che ci sono qui nella zona Andiamo in questa acrobazia sconosciuta e vediamo di cosa si tratta Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto quel bellissimo esemplare di gioiello dimenticato Non vi spoilero niente se non l'avete ancora visto, andatevelo a vedere perché è veramente bello, bello Abbiamo guidato l'altro gioiello dimenticato, cioè la nostra Jaguar Mark II E abbiamo scoperto questo gioiello dimenticato che è qualcosa di spettacolare, una delle mie macchine preferite Rarissime Attenzione, 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 non l'avevo visto Eh, che frenata, che spettacolo, è proprio la potenza frenante di quest'auto Fa paura Ma paura proprio, cioè Allora, poi tagliamo Sì, si puntabilita, poi faremo tutto quando accumuliamo un po' di roba, dai Ok, vai, 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 attenzione, attenzione Ecco che cos'era Ok, ok, abbiamo capito Era il segnale di pericolo, dobbiamo saltare 12 metri per ottenere una stella, perfetto Allora, mettiamo il segnalino Cos'è meno, lo ritroviamo E prendiamo una bella rincorsa La prendiamo anche in discesa la rincorsa, così, almeno Vai, 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 vai Voglio fare un salto di quelli che se la ricorderanno per tutta la vita Speriamo non in senso negativo, perché Non sarebbe molto bello, eh Eh no, però se mi fai saltare così, no Ma che infame Ecco, ci eravamo incastrati, ci ha spuntato fuori, praticamente Allora, vediamo in che modo possiamo arrivare qua Senza fare queste figuracce Perché giustamente Io sono arrivato da qua Però l'auto ha saltato prima E gli siamo arrivati tutti storti Vediamo, vai, vediamo Forse qua ci arriviamo dritti, dritti Oh, dai, che forse è buona No, 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 no Ma Vabbè, dai Ma cos'è sta mafia Ditelo Tu Non puoi Dai, 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 che forse ci siamo Ci siamo, ci siamo, ci siamo Bello 99,09 Vediamo cosa abbiamo fatto Due stelle Tre stelle, perfetto Finalmente Abbiamo raggiunto Tre stelle Dai Questo, vabbè, ce lo rifaremo Acrobazia sconosciuta Vediamo Anche qui Eh, stiamo per arrivare alla espansione del festival Penso che con questa gara, se andrà bene Dovremmo arrivare Al numero di fan Prestabilito per Espandere di nuovo un festival Eh, sì, ovviamente vi taglio Ci vediamo quando siamo arrivati Eccoci qua Belli prepotenti Ah, ok, ok Una lista dei desideri Cos'è, un'altra Holden? Vabbè che siamo in Australia, però Cioè, ragazzi Eh, non è che Eh, sì Una HSV GTS 2014 Auto australiana Vediamo cosa dobbiamo fare Salta più lontano dell'obiettivo Vediamo Ecco qua, mi accendono La radio che io non voglio Oh, radio spenta, vai Dobbiamo fare un salto Ah, sta auto, però Niente male, eh, direi Vediamo anche dentro Vabbè, ovviamente 2014 Quindi molto moderna Come Scusate, eh Ho sbagliato Molto moderna Ma che strade ci fanno fare? Ma fateci andare dritto, no Mamma mia Beh, poi ovviamente I motori sono Di derivazione Comunque americana, eh Adesso non mi ricordo Se motori Chevrolet Comunque sono i V8 Tipici americani Però, ragazzi Dobbiamo andare tranquilli qua Perché se no Non ci arriviamo Con la giusta prepotenza Perché troppa prepotenza Non va bene Albero Eccolo lì Ma questi qua di solito Non si spaccano L'avevo visto male Allora Dopo questa Gran figura Da cioccolatai Abbiamo anche Un tempo Dai, 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 dai Sì, ma sta macchina È troppo prepotente Cioè, rimane Lì a sgommare Ferma Dai Via Mamma mia Un salto nel vuoto Che bello 104,20 Ce l'abbiamo fatta Perfetto Vabbè 3.000 crediti Lascia perdere Una Noble M600 Questa Non mi dispiacerebbe 20.000 Vabbè Niente Non diciamo niente Ok Espansione del festival Pronta La andrei anche a fare Così Ci fanno Comprare un'auto Sì, dai Andiamo a farla L'espansione Magari sempre Nell'outback No, bellissimo Con i gonfiabili È il mio sogno Ma va, va, va Ma dai Ma Ha uno che Fa le corse Clandestine Che fa Ste robe qua Cioè, tu gli proponi Che cosa I gonfiabili? Va bene tutto Però Vabbè Adesso non vorrei Trovare Accidentalmente Il Gioiello Dimenticato Perché Ci sarà una puntata Dedicata Vabbè Vabbè Qua non taglio Perché tanto È dritta La strada Siamo praticamente Arrivati Senza schiantarci Ok Dai Espandiamo L'outback Anche se non mi piace molto Però Comunque Fa parte del gioco Dovremmo anche Imparare Ad apprezzarlo Questa parte Di mappa Chi è che Si è schiantato Vabbè Dai Allestiamo Il nostro Cantierino E via Di tamarraggine Eh beh Ascolta Sei nell'outback L'ombra Ma Ragazzi Ma dai Ma come ragiona Sta gente Vediamo se Oh Allora Qui Qui Ci sono delle auto Mitsubishi E Subaru Tra cui io Non so scegliere Giuro Veramente Non so scegliere Allora Evolution 9 Direi anche no Perché Una Vabbè Del 2006 Non è molto moderna Però è già la 9 Scusate Ho sbagliato La Evolution 8 Si è simile Ecco La Evolution 6 Esteticamente Bella E brutta Insieme Perché ha di particolari Bellissimi E altri particolari Che Fanno schifo Però è quello Il suo bello Proprio il suo pregio Io andrei su questa Io andrei su questa Perché Adesso vi spiego subito il perché Questa No Questa No E Questa Anche no A me piace La Subaru Del 97 98 Qui Non ce l'abbiamo Quindi prendiamo La Mitsubishi La Mistupishi Anzi La chiameremo Mistupishi Perché È il mio modo Di chiamarla La Lancer Evolution 6 Mettiamoli però Un bel Design da rally Ovviamente Magari che sia Con un drago Bellissimo Ecco Allora Questa qua Sarebbe Un bel Design Perché comunque Rally Art Era uno Una delle tante Livre Che aveva Questa Quest'auto No rossa No Io ho l'auto rossa Nella realtà Però non piace Il rosso Questa è bellissima Questa è veramente Bella Con questi color Anche così Mamma mia Cosa facciamo Questa o questa Dai facciamo questa Poi tanto si può Sempre cambiare Quindi non c'è Alcun problema Sì Selezioniamo 25.000 Credici Non costa niente Ragazzi Ci ha fatto pagare Altre auto Molto di più Altre auto Che non Che secondo me Valgono meno Di questa Affettivamente Prestazionalmente Va che bella E se c'è un kit estetico Dei potenziamenti Da rally Se non costa troppo Lo prendiamo Eh no Scusate Ho sbagliato Usciamo così Sì 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 Eh beh Per forza Ci doveva essere Preparata Totalmente Da rally Del 99 Giustamente Un vero e proprio Mosso del rally In grado di raggiungere Velocità incredibile Anche nel fango Ed è quello Che noi vogliamo Allora Lo mettiamo Non ci dice Quanti cavalli Avrà Fa niente 429 kilowatt Mamma mia Diventa S1 Al massimo 900 Quindi l'auto Più potente Che abbiamo In questo momento 61.700 crediti Perfetto Non costa Neanche tanto Andiamo A farci quest'auto Bellissima Mamma mia Bella 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 Andiamo subito A provarla Sì Sì Non facciamo Come le altre volte Ci vediamo Con il prossimo Eccole Perfetto Allora Sapete cosa vi dico Io mi vado a fare Questo qui Che l'altra volta Con l'Ariel Abbiamo fatto schifo Io lo farei Però non mi ricordo Come si chiamano I club A cui voglio Accedere Quindi No facciamo un'altra volta Confermi Non vuole entrare Nel club di Horizon Sì sì Confermi Intanto Ci iscriviamo in seguito Non è bloccato Quindi Ok I social Abbiamo il nostro Drivatar Che è guadagnato 3960 Eeeh Proprio Mamma mia Dai andiamo a provarla Guardiamola prima Eh come Come sfiata la turbina Però non scoppietta Vabbè Dentro Essenzialissima Giustamente Pronti Vai Eh ragazzi Che spettacolo Auto degli anni 90 Vabbè Anche questa tende Un po' Ad imbarcarsi Però eh Dai Vediamo se riusciamo A terrappare un po' Eh però se non Cambi marcia Allora è molto più difficile Del previsto Vabbè Nuovo record personale Non ci voleva molto Salve Dottor Coltaleale Bellissima Anche questa Nooo Maledetto Chi è lei Eh vabbè Un nome Impronunciabile Ok Che maledetto Avevamo preso la curva Benissimo Potevamo fare una derapata Di quelle Mostruose E invece Eh vabbè Dai ci riproviamo L'ultima volta Poi Andiamo a casa Abbiamo 1600 punti Per fare La seconda stella Quindi Eh sentite voi Però Non mi sembra il caso Eh però se mi Mi derappa fuori pista Nulla Nulla Eh vabbè Dai Allora Diciamo che Per questa puntata Può anche Terminare qui Siamo qui con Un nuovo mostro Del rally La nostra Mitsubishi Lancer Evolution 6 Del 99 Eh quindi Io Vi invito A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate un mi piace Lasciate un commento Condividete il video E ci vediamo A un prossimo episodio Di Forza Horizon 3 Un saluto a tutti Da Hasbrad Un saluto a tutti